In pratica se la Nato arriva qui, l'alleanza porterà con sé tutti i difetti del sistema di sicurezza euro-atlantico che sono incarnati sia nella stessa Nato che nell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e che ecco il sistema della sicurezza model euro-atlantico. Ha da tempo dimostrato che il suo obiettivo principale è garantire il dominio degli Stati Uniti e dei loro alleati su tutti gli altri. Un altro elemento preoccupante. Recentemente gli Stati Uniti hanno concluso un accordo con la Repubblica di Corea sulla pianificazione nucleare congiunta. Al momento non possiamo nemmeno ottenere spiegazioni su cosa significhi, ma che ciò provochi ulteriore preoccupazione. Non ci sono dubbi, non ne abbiamo. Inoltre stanno cercando di includere anche il Giappone in questo schema di pianificazione nucleare congiunta. Beh, non so, forse alcuni di loro temono per la propria fotogenicità, beh, non so. Io in realtà do poca importanza a questi aspetti protocollari. In Svizzera, a giugno dell'anno scorso, a Burgenstock, lì molti paesi non sono andati, cioè quelli che erano stati invitati. Molti di quelli che sono andati non hanno firmato la dichiarazione finale. Ma lo so, i miei amici me lo hanno raccontato in confidenza, come l'Occidente e gli Ucraini cercavano di convincere varie capitali a inviare almeno un rappresentante lì. In risposta ai dubbi espressi dai paesi del sud globale, che noi non vogliamo andare lì perché non consideriamo con il nostro corrispondente interesse a entrare in conflitto con la Russia, risolviamo tutto amichevolmente. Gli dicevano di non entrare in conflitto con la Russia, di non firmare niente, di venire e fare semplicemente una foto di famiglia. Tutto qui. Questo dimostra ancora una volta che l'Occidente ha bisogno di una scena semplice, senza approfondire veramente la questione, per promuovere la propria, come si dice, narrazione. Ma qui personalmente non mi sono rattristato per il fatto che la sessione fotografica non abbia avuto luogo. La parte cinese sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e che non è possibile fare pressioni sull'Ucraina per costringerla ad andare ai negoziati. Ecco, come si fa a considerare questo? Beh, come a Kuleba, come si può considerare altro? Non è la prima volta che lo dice. E a volte ha detto anche cose esattamente opposte. Non molto tempo fa parlavano dei negoziati. Zelensky ha menzionato la disponibilità a sedersi eventualmente al tavolo con i rappresentanti russi. Non li ascolto, sinceramente. Il signor Schulz è noto per tali dichiarazioni, perlomeno direi ingenue, e per le sue semplici idee. Il problema non è che saranno posizionati sistemi missilistici terrestri di medio e breve raggio un tempo vietati. La speciale operazione non è stata organizzata a questo scopo, né è ciò che ha costretto il Presidente a prendere decisioni. Per eliminare le minacce alla sicurezza della Russia che si stavano creando in Ucraina, si pianificava di insediare basi militari, anche sul Mar Dazov. Nessuno ha chiesto a Schulz se i tedeschi volessero tale insediamento o no. Lui, ancora una volta ingenuamente, quando è uscita questa notizia, ha dichiarato accolgo con favore la decisione degli Stati Uniti di dislocare i missili corrispondenti in Germania. È una buona decisione, cioè non ha nascosto che la decisione fosse americana. Non considero necessario commentare le numerose idee che ora, come un corno dell'abbondanza, sono piovute in condizioni di consapevolezza dell'Occidente, dell'assenza di prospettive. Della sconfitta della Federazione russa e delle condizioni in cui l'Occidente riconosce sempre di più l'inutilità di Zelensky e del suo regime. Zelensky, con un decreto firmato due anni fa, ha proibito a se stesso e a tutti i suoi collaboratori di negoziare con la Russia. Ha detto il nostro Presidente, beh, almeno perché voi occidentali abbiate qualche argomento. Per accusarci di non voler negoziare, che annulli pubblicamente il suddetto decreto. Non succede niente, tutto viene ignorato e continuano a fare appelli a noi. Mostrare un approccio costruttivo e in sostanza per loro, questo ora significa capitolazione. Questo non accadrà. Tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno raggiunti, non ci sono dubbi su questo. Grazie. 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 Grazie a tutti